Trasferta di successo e passaggio del turno per l'Alba Alcamo. I bianconeri guidati da Riccardo Chico hanno infatti vinto per 3-1 la gara di ritorno contro la Parmomal, guadagnando l'accesso al turno successivo di Coppa Italia. La gara inizia subito bene per l'Alba Alcamo, che passa a vantaggio con Emmolo, lesto ad approfittare di una ribattuta del portiere. Al trentesimo raddoppio degli alcamesi sul calcio di rigore. Manfrey viene atterrato al suo ingresso in aria. Per l'arbitro non ci sono dubbi, nonostante le vivaci proteste dei padroni di casa. Sul 2-0 i ragazzi di Mr. Chico calano il ritmo e gli avversari tentano di approfittarne andando vicino al gol. Nel secondo tempo la Parmomal inizia meglio ed accorcia le distanze con un gran bel gol di Rappa, un bolide da fuori aria che si insacca alle spalle dell'incolpevole numero uno alcamese. A dieci minuti dalla fine arriva il gol del definitivo 3-1. Filtrante di Emmolo, tocco sotto dell'altaccante alcamese e grande sultanza per i ragazzi di Mr. Chico. Una vittoria che dà morale in vista dell'inizio del campionato previsto per domenica prossima. È infatti uscito il comunicato ufficiale con il calendario del campionato di eccellenza. L'Alcamo esordirà in trasferta al Castelbono, poi due turni casalinghi consecutivi con il Licata ed il Marsala. E qui sorge un dubbio abbastanza importante per la squadra alcamese. Dove giocherà le gare casalinghe? Ad Alcamo il campo del Catella non sembra essere ancora pronto nemmeno per gli allenamenti, figuriamoci per una gara ufficiale. E dal Castellammare sembrano esserci stati alcuni strascichi dopo le autorizzazioni rilasciate dalla locale amministrazione per consentire ai cugini alcamesi di disputare il turno casalingo contro la Parmoval della settimana scorsa presso il Giorgio Matranga.